24-21 match point, riceve Mason, poi Bortoli, Batacciausce, va! Che chiude sul 25-21, intera posta in padio al Soverato che chiude 3-1 su Cutrofiano si aggiudica il match nel turno di Santo Stefano, conquista l'aritmetico accesso alla pool promozione quindi alla seconda fase con questa vittoria, rafforza il secondo posto sfruttando anche la sconfitta di Pinerolo tre punti importantissimi e settima vittoria consecutiva per la squadra di coach Napolitano Con coach Carradu commentiamo questa sconfitta per 3-1 del suo Cutrofiano qui a Soverato possiamo dire comunque una partita dai due volti, primi due set interamente dominati dal Soverato terzo e quarto set è stata una partita diversa, forse il rammarico rimane per i primi due set giocati in quel modo al cospetto comunque di una squadra che ha fatto valere la maggiore qualità di cui dispone Sì esatto, nei primi due set il Soverato ci ha messo molto sotto pressione battendo bene e difendendo tantissimo, è stato difficile per noi nei primi due set mettere palla a terra in attacco loro ci hanno messo sotto pressione con tanta difesa e contrattacco e poi insomma abbiamo sicuramente siamo migliorati in questo fondamentale nel contrattacco qualche colpo d'attacco di più vincente e al contrario insomma abbiamo iniziato a mettere sotto pressione noi il Soverato però poi è uscito al quarto set insomma la partita si è rimessa sui binari dei primi siamo calati di nuovo noi in attacco è cresciuto tanto il Soverato in attacco insomma il risultato è questo ed è giusto Adesso iniziano ad essere più pesanti i punti ci avviciniamo nella rush finale di questa prima fase di regular season Cutrofiano che deve raggiungere l'obiettivo salvezza e sicuramente la chiave devono essere probabilmente soprattutto le partite casalinghe far sfruttare il fattore campo questo ultimo frangente c'è stato un po' di altalena dei risultati per la sua squadra Sì insomma a questo punto il fattore campo che per tanto tempo c'è stato amico dobbiamo tornare a sfruttarlo e dalla prossima vabbè la prossima gara abbiamo la trasferta impegnativa a San Marignano poi la successiva inizia un abbiamo due partite in casa Sassuolo e Montale per noi sarà importantissimo fare punti in quell'occasione Infine un giudizio sullo Soverato seconda forza di questo girone che è reduce da diverse vittorie consecutive una squadra che gradualmente sta migliorando Sì complimenti al lavoro che stanno facendo devo dire che la vittoria di domenica scorsa a Pinerolo sicuramente vi ha rilanciato tantissimo è stato un risultato che secondo me cambia il volto del campionato e della classifica ovviamente Arriva una vittoria per 3 a 1 nel turno di Santo Stefano per il Valle Soverato Vittoria meritata, altri 3 punti importantissimi Incamerati, secondo posto rafforzato, settima vittoria consecutiva Coach Napolitano, ci sono tanti ingredienti per una stagione che sta vedendo crescere il Soverato gradualmente Ma guarda faccio due considerazioni la prima è che bisognerebbe dire veramente un grande grazie a queste ragazze perché le condizioni non sono semplici, qualcuno mi dice sì ma anche gli altri hanno il turno del 26 il problema è che noi siamo costretti a viaggiare e a fare 1200 km per andare a giocare una partita la società ci mette nelle migliori condizioni possibili per farlo e su questo non c'è un va di dubbio però il dato di fatto è che noi dobbiamo convivere con questa situazione è solo veramente chi ha un grande cuore come ce l'hanno queste ragazze riescono ad ovviare questa situazione è un handicap ma lo stiamo gestendo molto bene, brave loro la seconda considerazione è che la settima vittoria consecutiva di un periodo secondo me molto complicato, difficile, con partite difficili che al di là del risultato mi hanno regalato una squadra che gioca bene e ci siamo riusciti grazie alla volontà alla mia capabilità, a quella del mio staff, su questo non c'è un paio di dubbio ma grazie alla volontà delle ragazze che hanno comunque lavorato anche quando le cose non andavano bene nella direzione in cui io gli proponevo e devo ringraziarle per questo perché avere la fiducia da parte delle giocatrici in questi termini, una fiducia quasi incondizionata non è semplice quindi devo ringraziarle più volte poi aggiungo una cosa mancano quattro partite, mi hanno detto che abbiamo 13 punti di vantaggio sulla sesta quindi da oggi siamo matematicamente nel girone promozione e questo non era per niente scontato perché ad agosto ci siamo ritrovati con una squadra completamente nuova non era le nostre volontà siamo stati costretti a rivedere i nostri piani di mercato più volte anche qui la società, devo dire, che ha fatto tutto il possibile ma di fronte ad alcune situazioni abbiamo dovuto alzare le mani ma non per questo ci siamo demoralizzati un grazie grande, grandissimo al mio staff perché mi dà quello che altri staff non mi hanno mai dato nella mia carriera ed è una carriera di 15 anni per cui questo bisognerebbe in qualche modo prenderlo come valore aggiunto da parte di tutti non solo da parte mia che faccio l'allenatore ma da parte di tutta la città di Soverato perché trovare dei ragazzi così non è semplice allora siccome il coach mi ha anticipato quella che era la seconda domanda perché è stata raggiunta la qualificazione alla fase successiva analizziamo la partita di oggi primi due set dominati calo di tensione nel terzo set quarto set più equilibrato dove Cutrofiano qualche problemino ve lo ha creato però il Soverato dava sempre la sensazione di avere l'inerzia dalla sua parte di far valere quando accelerava la maggiore qualità di cui dispone guarda il calo del terzo set è stato fisiologico perché comunque domenica abbiamo giocato a Pinerola una partita di livello altissimo che ci è costato tanto in termini di energie fisiche ma soprattutto mentali e questa è la settima vittoria su sette partite laddove sicuramente fisicamente è una cosa che va tenuta in conto ma ancora di più da un puntista mentale perché le partite sono di alto livello Cutrofiano ha una posizione di classifica che secondo me non merita ha avuto un passaggio a vuoto durante il campionato ma adesso ha ritrovato i suoi elementi soprattutto Caglialina con gli Andro è una squadra organizzata bene che gioca bene e che nelle ultime due partite va andato a vincere a Club Italia con il Club Italia a Milano e in casa con Martignacco senza fargli vedere palla quindi campionato è di livello alto siamo stati bravi a reagire a questo terzo set in cui abbiamo avuto questo calo fisiologico abbiamo la fortuna di avere delle giocatrici duttili Silvana Ciausceva è andata di nuovo a ricoprire il ruolo di Imposto 4 senza colpo ferire sulla ricezione insomma queste sono qualità che noi ci troviamo e che sfruttiamo un grazie grandissimo a Giorgia Quarchioni perché sia nella partita di Pinerolo che in questa partita ha dimostrato di essere una giocatrice non preziosa di più, preziosissima una giocatrice che è parte integrante di questo gruppo che non è seconda a nessuno e che accetta le mie scelte che sono basate non sulla sua qualità ma su quelle che sono le esigenze magari del momento tattiche o situazionali perché lei è una giocatrice che potrebbe tranquillamente non essere seconda a nessuno quindi è solo un discorso legato diciamo alle dinamiche di squadra grazie a tutti